che è quella del calcio che è sicuramente lo sport più popolare al mondo. Mi fa piacere che ci siano anche i rappresentanti del Senacalcio che da subito hanno benedetto, diciamo, comunque sono stati felici di poter capire questo nuovo consorzio, speriamo anche nel futuro di essere utili al Senacalcio e questo sicuramente, perché è il primo anno che siete qui sul territorio avrete capito che è un territorio molto fertile dal punto di vista dello sport e del gioco del calcio dove la passione, un po' la vedete alla domenica allo stadio, ma anche sul territorio stesso è estremamente notevole.